di nuovo in onda con la seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a vedere allora i titoli dei giornali locali il messaggero ostia litorale apre con le baby squillo le confessioni shock parlano i clienti convolti nell'inchiesta l'ultima volta con una minorenne quattro giorni fa per loro era un gioco e volevano fare tutto e subito e noi pensavamo di averla scampata e ancora le false certificazioni sanitarie truffa da 40 milioni alla asl chiesto il processo per dirigenti della rmh di albano e di villa dei pini ad anzio e ancora l'ostia lira dei commercianti per questa isola pedonale che non va e deserta tranne che nel fine settimana da fiumicino franceschini a porto romano bisogna rilanciare e dalla dispoli e cerveteri i sindaci non solo loro si sono scagliati contro goletta verde e i dati che sono emersi da questa indagine delle acque della costa laziale e per quanto riguarda il turismo dicevamo della foto che abbiamo visto in prima pagina riguarda ostia nei giorni feriali isola pedonale per pochi intimi negozi in crisi ma caliendo tira dritto aperta solo nel weekend non se ne parla nemmeno lungo mare pedonalizzato il turismo è diminuito di almeno il 30% bar ristoranti e negozianti risentono del pesante calo di movimento non solo all'interno dell'area interdetta al traffico ma anche nelle zone più distanti raggiungibili meno facilmente per l'interruzione viaria l'amministrazione però intende andare avanti con l'iniziativa lungo mare deserto ristoranti vuoti bar tristemente silenziosi e solo qualche presenza che si aggira sul pontile tra le bancarelle gli spettacoli spettacoli allestiti gratuitamente da approdo alla lettura e da ostia e è lo spettrale scenario che si può vivere tutte le sere dei giorni feriali sulla strada costiera tra piazza dei canotti e via giuliano da san gallo l'iniziativa imposta dal decimo municipio non accontenta nessuno persino gli stendisti del villaggio lungo il mare di Roma e di approdo hanno comunque una sensazione di malcontento la sera come scende il buio è deserto ammette uno dei camerieri in servizio nei punti ristoro di via delle quinque remi rispetto agli anni passati le vendite si sono dimezzate e il movimento si è ridotto di un terzo conferma Tullio Catalano di approdo alla lettura come bilancio definirlo disastroso e poco ribadisce Pier Giorgio Rossi del ristorante Soul Kitchen come quantità di lavoro sembra di stare a dicembre i clienti abituali si guardano dal venire i parcheggi sono distanti o nella migliore delle ipotesi al buio e infestati da guardamacchine abusivi da quando la pedonalizzazione del lungomare è stata avviata racconta Marco Casavecchia ho perso il 30% del lavoro il sabato dell'air show nonostante l'evento incassato come fine settimana qualsiasi ho cinque dipendenti e non posso permettermelo quindi questi sono i racconti dei commercianti che descrivono la situazione e ancora con il municipio stoppa ogni collaborazione a parlare l'asso balneari che interrompe quindi questo rapporto con il decimo municipio sulla decisione comunicata per iscritto dal presidente Renato Papagni alla delegata per il turismo Monica Valeri pesano molto le scelte del presidente tassone riguardo alla pedonalizzazione che sta mettendo gli imprenditori balneari e che operano nel tatto interessato in seria crisi quindi niente sostegno economico al cabaret televisivo girato a Ostia da Sky e andiamo avanti con i titoli dalla Dispolie Cerveteri con i sindaci all'arrembaggio della Goletta Verde contestati i dati sull'inquinamento pronti a denunciarla per Pascucci questi dati danneggiano la stagione turistica e le Gambiente Replica i comuni pensino agli scarichi abusivi e ancora troviamo da Anzio la cronaca picchiano il custode danneggiano uno stabilimento e poi arresti per droga e armi invece ad Ardea da Fiumicino il ministro Franceschini Porto Romano da valorizzare queste le sue dichiarazioni in visita appunto ai resti che lo vediamo in questa immagine in compagnia del sindaco esterino Montino subito dietro di lui e lavoreremo dice Franceschini a un progetto per valorizzare e far conoscere al mondo la grande bellezza del porto romano così vicino all'aeroporto intercontinentale quindi sono rassicurazioni piuttosto importanti il sito archeologico dei porti di Claudio e Traiano il cui ingresso è lungo la via Portuenze a Porto è un illustre sconosciuto e ciò viene confermato dal fatto che risultano solo 3.000 visite annue contro le 300.000 di Ostia Antica per tale motivo il governo locale sta spingendo sull'acceleratore dal giorno in cui si è insediato e non a caso il primo cittadino è pronto al varo di un collegamento per unire i siti presenti sul litorale con un archeobus che partirà dallo scalo romano per unire i porti, la necropoli di Porto e gli scavi di Ostia Antica. C'è però da risolvere il problema di apertura dei giacimenti archeologici abbiamo bisogno di personale dice la soprintendente Barbera due assistenti all'accoglienza e vigilanza in servizio al museo delle navi chiuso da 10 anni e in prestito part time al porto di Traiano sono nulla rispetto alle esigenze comunque confidiamo di arrivare a 30.000 presenze per l'anno 2016 e vedremo se questo progetto riuscirà poi a concretizzarsi Vigili urbani anche di notte per la sicurezza dei turisti a Pomezia da sabato prossimo il servizio impegnerà i vigili tutti i giorni fino a mezzanotte l'obiettivo è garantire l'ordine e la sicurezza della circolazione stradale anche dopo le 21 ma soprattutto prevenire e reprimere le attività commerciali abusive che d'estate si moltiplicano in particolare sul litorale tante la scorsa stagione le lamentele di cittadini e turisti che segnalavano schiamazzi e venditori ambulanti illegali i carabinieri dal canto loro devono coprire un territorio assai vasto che dalla costa arriva fino ai confini con la capitale così diverse sono state le richieste al comune di potenziare il servizio degli agenti urbani almeno d'estate il progetto per l'istituzione del turno serale della polizia locale presentato dal comandante Pizzoli e concertato con le organizzazioni sindacali ha detto il sindaco Fucci dimostra l'impegno dell'amministrazione nel rispondere alle esigenze dei cittadini garantendo il presidio del territorio, la sicurezza e la legalità anche di sera il servizio sarà concentrato soprattutto a Torvaianica dove c'è più afflusso dice Pizzoli tuttavia il personale sarà impiegato anche a Pomezia in occasione di eventi, feste e di manifestazioni andiamo avanti poi con le altre notizie che troviamo all'interno di Latina Oggi andiamo a vedere la parte dedicata soprattutto ai comuni limitrofi a noi e i dubbi sui prelievi in mare arrivano anche appunto da Pomezia l'acqua analizzata da Goletta Verde nel Lazio proviene dalle foci di fossi e canali il mare del litorale laziale è inquinato e questa è la domanda che sta sorgendo spontanea tra la gente dopo che Legambiente tramite i propri canali di comunicazione ha diffuso i dati inerenti alla qualità delle acque di balneazione valori che riguardano prelievi effettuati in diversi punti del litorale soprattutto in prossimità delle foci di alcuni fossi dove insistono già i divieti di balneazione emessi dai comuni per questo almeno per quanto riguarda Pomezia non mancano già le reazioni dell'amministrazione comunale in primis del sindaco Fucci che vuole conoscere i dati precisi rilevati da Legambiente innanzitutto però va ricordato come ha proceduto Legambiente nella campagna di Goletta Verde lo scorso anno ha spiegato Roberto Scacchi direttore di Legambiente Lazio avevamo chiesto di affrontare con urgenza il problema della depurazione con l'obiettivo di cambiare rotta già questa stagione ciò non è ancora avvenuto e oggi riscontriamo addirittura un aumento dei punti critici alle foci dei fiumi e dei torrenti ma anche in alcune spiagge su canali che passano nel bel mezzo degli ombrelloni i prelievi sono stati effettuati nella prima metà di giugno e non a fine luglio come lo scorso anno quando il carico antropico delle aree costiere è di certo molto più elevato nelle zone del litorale gli attivisti di Legambiente hanno analizzato le acque di Torvaianica alla foce canale altezza via Finadelfia nella foto presa dal sito dell'associazione la vedete e alla foce del canale all'altezza di via Siviglia di Arde alla foce del Fosso Grande di Anzio a Lido dei Gigli alla foce del Fosso di Cavallo Morto e al lungomare delle Sterlizie e anche a Nettuno nella spiaggia a destra della foce del Fosso Loricina tutti questi punti sono risultati fortemente inquinati una dicitura che ha portato il sindaco di Pomezia Fucci a chiedere chiarimenti chiediamo a Legambiente di visionare i dettagli delle analisi effettuate ha spiegato il primo cittadino secondo i dati pervenuti ai nostri uffici dalla Regione Lazio la qualità delle acque del nostro mare è buona e addirittura eccellente in alcuni punti rimangono esclusi i tratti coincidenti con i fossi di pratica della Crocetta e dell'Orfeo per cui è vietata la balneazione fino a 250 metri a destra e sinistra come da ordinanza l'attenzione che la mia amministrazione pone nella tutela del territorio e nella salvaguardia dell'ecosistema è alta proprio per questo chiediamo a Legambiente di fornirci i risultati dettagliati delle analisi effettuate da Goletta Verde in modo da confrontarli con quelli in nostro possesso e con questa notizia ci fermiamo brevemente andiamo in pubblicità e rientreremo tra pochissimo con l'ultima parte della nostra rassegna stampa grazie a tutti